Milizza Miciovic, seconda stagione all'Umana Reier, come la affronti? Che cosa hai trovato alla ripresa della preparazione? Sono felicissima di essere di nuovo qui, è stato un po' come tornare a casa, per ora stiamo lavorando benissimo, molto intensamente, è solo l'inizio, quindi c'è solo da continuare. La nuova impressione, la impressione delle nuove compagne, qualcuna magari già la conoscevi, qualcuna l'hai conosciuta qui, che impressione ti ha dato? Per ora ha tutte impressioni positive, si lavora molto forte, questo mi piace molto perché ogni ragazza cerca di dare sempre il massimo e quindi il gruppo diciamo che si sta piano piano formando, ci mancano ancora due elementi fondamentali, però insomma piano piano ci stiamo amalgamando. Amalgamando